Comprooro? Quanta confusione! C'è solo un modo per non sbagliare. Fidati dell'esperienza. Da 15 anni, oltre 50.000 operazioni effettuate. Ufficio Cambio è l'unico sportello di fonderia con quotazioni borsistiche e nel pieno rispetto di tutte le leggi. Ufficio Cambio Comprooro è a fermo in Viale 20 Giugno e in Ascoli, in Via Milano. Ufficio Cambio Comprooro. Affidabile. Garantito. Grazie a tutti.